Piotr Morstin via per la Polonia, lui è inzietta Ossadkowski che è in lena numero 379 for Poland number 379. Zero legalità per Maja Stanger-Rosso-Holm al 58 secondi 89. Con questo risultato va ad inserirsi all'ottavo posto della classifica provvisoria 8th provisional place for Karembra, clear round time 58 seconded 89. Radar Tarotare è un pòssicato con un livello, preghia della parola e New Val campagna Per me racc threats e che tranche Cope alle operator raffreddie fare alla Campagna e preferire ai arrivati an 144 secondi Aансina in Rokmio dell'Anchia Farba. Grazie a tutti.